Musica Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Sono state aperte questa mattina le prenotazioni per 26.000 dosi di vaccino all'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Gli hub vaccinali al momento sono tre, a quali si aggiungeranno prossimamente altri centri più piccoli. Isabella Gregoratto ha fatto il punto con il direttore generale di ASUFC, Denis Caporale. Ascoltiamo. Un saluto ai nostri amici telespettatori. Mi trovo nella sede della direzione dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Sono con il direttore Denis Caporale per parlare dell'apertura di ulteriori 26.000 posti per la vaccinazione anti-Covid, per il booster. Quindi da questa mattina è possibile nuovamente prenotare per riuscire ad avere la terza dose oppure per avere la prima dose in tanti casi? Sì, assolutamente sì. Questa è stata l'apertura di nuove posizioni di posti presso i nostri centri vaccinali, dovuta soprattutto naturalmente alle modifiche normative rispetto al Green Pass. Ma questo ben venga naturalmente anche alle richieste che abbiamo per l'effettuazione delle terze dosi. Ecco, praticamente vi servirete degli hub che già avete a disposizione, Fiera, poi a Gemona e a Palmanova? Sì, noi abbiamo in questo momento aperti tre centrali di vaccinazione, che sono quella presso l'entefiera di Udine, quella presso le manfatture di Gemona e quella presso il presidio ospedaleo di Palmanova, al quale naturalmente si aggiungono tutti quanti punti periferici. Dal 29 riapriremo dei piccoli mini hub presso l'Incarnia. Sono già aperti dei mini hub in bassa friulana gestiti direttamente dagli MMG, a cui va naturalmente il ringraziamento per la participazione dell'attività vaccinale, che è fondamentale in questo momento delle terze dosi. E tra l'altro per la prossima settimana, per martedì e la prossima settimana, prevedete anche di ultimare le vaccinazioni degli ospiti delle case di riposo? Sì, anche questa è stata una fase importante. Abbiamo volutamente anticipato rispetto ad altre categorie gli anziani delle case di riposo, così come anche diversamente abili presso i centri direttamente gestiti da noi, ma anche gestiti dal terzo settore. Queste sono categorie fragili che vanno assolutamente protette prima di tutte quante le altre. Con il nuovo Green Pass, il Super Green Pass che si affaccia, quindi c'è un incremento anche di persone che si vaccinano per la prima volta, almeno per quanto riguarda le farmacie ci segnalano un incremento di queste persone. Sì, viviamo in questa speranza, nel senso che l'unica arma che abbiamo per combattere in questo momento il virus e la pandemia e il vaccino, ci sono delle persone che sono rimaste indietro rispetto alla vaccinazione, naturalmente queste persone in questo momento chiedono e vorranno vaccinarsi, questo si ripercuote sicuramente sul nostro sistema, anche sul nostro sistema vaccinale, quindi mi scudo già da subito se ci saranno dei servizi e delle code, e delle attese rispetto ai nostri centri vaccinali, è una situazione che naturalmente non è voluta ed è sicuramente di difficile gestione, anche perché appunto i numeri sono numeri importanti. Ecco, poi ci sono anche i bambini adesso. Sì, ci sono anche i bambini, questo è naturalmente un impegno aggiuntivo rispetto a quello che avevamo già sopportato nelle fasi precedenti, sono numeri importanti che cercheremo di gestire nel miglior modo. Ecco, adesso vi troverete anche nell'impasse di avere personale che vada a vaccinare, quindi come vi state muovendo? Per noi è fondamentale mantenere, diciamo, tutte le linee di reclutamento che abbiamo utilizzato nella prima e la seconda fase della vaccinazione, in questo momento noi abbiamo chiesto uno sforzo aggiuntivo al nostro personale, personale che devo ringraziare anticipatamente rispetto alla disponibilità che ci darà per la terza, sono sicuro che ci darà per la terza dose e naturalmente per quanto ha già fatto nella prima fase, nelle prime due fasi vaccinali, personale che è indispensabile al nostro sistema. A questo si aggiunge naturalmente i medici volontari e non solo medici, anche altre figure professionali volontari che si sono dedicate con passione e con naturalmente impegno massivo rispetto alla fase vaccinale e naturalmente a personale che reclutiamo tra i nuovi medici e tra gli specializzanti. E sarà possibile proprio anche tra gli specializzanti andare a trovare, a identificare? Sì, noi grazie al rapporto anche, ai buoni rapporti che abbiamo con l'università, abbiamo cercato di coinvolgere anche naturalmente gli specializzanti in tutte le fasi e anche in questa naturalmente li abbiamo convolti. Senta, in questo momento ASUFC come sta affrontando questa ulteriore nuova emergenza? Costretto a spostare personale, costretto a ridurre attività perché operate su più fronti contemporaneamente? Certo che la situazione sembra la tempesta perfetta, nel senso che noi abbiamo le sospensioni del personale sanitario non vaccinato, abbiamo il personale che non può vaccinarsi e che quindi ha chiesto naturalmente lo spostamento della vaccinazione e a questo personale dobbiamo cercare di assicurare un posto di lavoro protetto, tra virgolette protetto, nel senso che naturalmente non è così facile proteggere il personale in situazioni in cui tutta la popolazione in qualche maniera si trova nelle stesse condizioni e naturalmente a questo si aggiunge attività che dobbiamo assicurare ordinaria a quale naturalmente va aggiunta quella straordinaria che ci sta impegnando sul Covid. Ecco, quindi voi siete nell'ordinaria, praticamente, recovery Covid, poi i controlli, i tracciamenti, le vaccinazioni, il recupero delle liste d'attesa precedenti? Ben detto, nel senso che le aziende sono messe sotto pressione, io faccio un appello anche a tutte le forze politiche rispetto al riconoscimento di come il nostro sistema sanitario si sia adoperato, si stia adoperando per rispondere a una pandemia. È facile fare polemica sui singoli casi, sulle singole cose o sulle singole code che si credono a creare nei vari servizi o sulla chiusura di alcuni servizi, ma il sistema in questo momento è un sistema messo sotto pressione che fa fatica, ma fa fatica non perché non sia organizzato, ma fa fatica appunto perché i numeri e come detto le attività a cui è costretto a dover mettere in piedi sono naturalmente la condizione in cui ci troviamo per la pandemia. Bene, ringraziamo il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, Dennis Caporale, e qui dal Santa Maria della Misericordia di Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella. Domani alle 14.30 al Santa Maria della Misericordia di Udine oltre 30 donne in gravidanza si sottoporranno alla vaccinazione sotto la supervisione della direttrice della clinica di ostetricia e ginecologia dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, Lorenza Driul. La macchina organizzativa è pronta qui al Santa Maria della Misericordia di Udine dove a partire dalle 14.30 di domani oltre 30 donne in attesa si sottoporranno appunto al vaccino, alla somministrazione della dose del vaccino. Ne parliamo con la direttrice della clinica di ostetricia e ginecologia appunto dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, Lorenza Driul. Quindi organizzato il tutto, avrebbe mai immaginato di avere così tante adesioni? No, assolutamente sono molto molto felice di accogliere domani 39 e future mamme, perché è un messaggio molto importante di presenza e di sensibilizzazione alla vaccinazione in gravidanza. Domani saremo presenti accanto a loro per qualsiasi domanda, qualsiasi titubanza, proprio perché questo momento così importante, la prima vaccinazione anti-Covid in gravidanza, possa essere un momento di serenità e non di paura. I dati sono ormai assolutamente rassicuranti. Il Ministero ci dice, come tutte le nostre società, che la vaccinazione in gravidanza nel secondo e nel terzo trimestre di gravidanza e anche nel puerperio, è veramente un atto sicuro per la mamma e un atto di sicurezza per il futuro bambino. Quindi avere 30, anzi siamo andati oltre le possibilità di prenotazione, grazie anche alla grande sensibilizzazione degli altri punti nascita, da Tolmezzo, San Daniele e La Tisana. Abbiamo appunto questa possibilità e riteniamo importante accompagnarle nel modo più sereno a questa scelta che a volte indubbiamente può creare ansia e paura. E tra l'altro erano già circolate voci, perché fare il vaccino alle donne in attesa? Perché ormai le voci si corrono dietro, si rincorrono. Certo, il messaggio è un messaggio di tranquillità, di sicurezza nei confronti del vaccino in generale, del vaccino Covid in questo caso in particolare, ma anche delle altre vaccinazioni in gravidanza. Ricordiamoci che il vaccino della Pertosse è un altro vaccino importante che le pazienti verso la fine del terzo trimestre di gravidanza dovrebbero eseguire per assicurare poi una maggior sicurezza con il passaggio degli anticorpi al nascituro, al neonato e alla neonata. Quindi la vaccinazione, sia Covid che in generale le vaccinazioni che consigliamo in gravidanza, sono un atto di fiducia nei confronti e di sicurezza per il futuro bambino. Ecco, tra l'altro per domani da una parte qui si effettano le vaccinazioni, ma altrove sono previste manifestazioni Novavax? Sì, questo lo so, però noi diamo atto alle evidenze scientifiche. e se possiamo aiutare con i nostri consigli, con le evidenze che abbiamo in questo atto, siamo qui per fare questo perché ritengo che questo sia il nostro dovere. Piccola pausa per la pubblicità, poi ci ritroviamo in diretta da Vella Linea. Tra poco. Ben tornati ad A Vella Linea. Tra novità e grandi sorprese torna a Udine la cecchedaggio Sinfoni Orchestra, a Friuli Venezia Giulia, sul palco del Giovanni D'Audine, il 3 dicembre andrà in scena a Let the Music Play. Si esibiranno 30 elementi diretti dal maestro Dennis Feletto. Torna a Udine la cecchedaccio Sinfoni Orchestra. Appuntamento il 3 dicembre al Teatro Nuovo Giovanni D'Audine alle 20.45. Che cosa ci aspetta quest'anno? Tantissime novità perché il programma è stato rivisto, rimesso a punto e cambiato rispetto all'edizione scorsa. Abbiamo comunque dei cantanti nuovi, abbiamo dei cori nuovi e abbiamo un'orchestra veramente eccezionale, anche questa cambiata per qualche elemento, per un totale sempre di 30 musicisti. Allora ci sono delle guest star quest'anno e soprattutto c'è tanto entusiasmo da portare sul palco. L'entusiasmo non ci manca perché anche in questo momento difficile cerchiamo di dare il meglio di noi stessi, uno spettacolo unico nel suo genere perché ripropone la musica degli anni 70-80 in una location veramente strepitosa che è il Teatro Nuovo Giovanni D'Audine. Let the Music Play è il titolo che ha anche uno slogan, che cosa volete rappresentare con questo titolo? Let the Music Play è Lascia che la musica suoni o che sia perché è tratta dalla canzone di Barry White che è anche una delle nostre canzoni portanti della scaletta, vuol dire anni 70-80, vuol dire la disco music che ritorna sul palco, disco music che arriva dalle orchestre, ricordiamo la Rewind and Fire, ricordiamo appunto Barry White, la sua orchestra, ricordiamo KC in the Sunshine Band, ricordiamo le orchestre funky degli anni 70 in generale e quindi poi andremo un po' sul pop e metteremo, ci saranno che canzoni più legate al mondo del, non so, gli Abba, ci saranno, ci sarà Love is in the Air, ci sarà Donna Summer e tutte queste belle hit di quel periodo per far divertire tutto il nostro pubblico. Il momento è difficile, continua purtroppo a rimanerlo, ma c'è comunque la voglia di guardare avanti, di farlo divertendosi anche quando è possibile, appunto come si diceva prima, con entusiasmo. C'è tanta voglia di divertirsi, c'è tanta voglia di entusiasmo perché il momento, in questo momento, è difficile per tutti, noi per primi operatori dello spettacolo dove siamo stati effettivamente i più colpiti. Andiamo avanti, I Will Survive, che è un'altra delle canzoni storiche di questa serata, per far sì che lo spettacolo sia veramente eccezionale. Effetti speciali e sorpresa natalizia. I biglietti si trovano al Teatro Nuovo Giovanni da Udine oppure online su vivaticket.it oppure su ticketone.it. Il teatro richiede un abbigliamento elegante, ma già sappiamo che il nostro pubblico è elegante, quindi lo aspettiamo con tanto amore. È stato presentato poco fa in Sala Iacce il programma per l'iniziativa Natalizia Udine in attesa dell'accensione delle luminarie e questa sera ci racconta tutto. Isabella Gregorato, la vedo già collegata in diretta a te. Buongiorno. Buongiorno Alexis, si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione delle innumerevoli iniziative che l'amministrazione comunale ha messo in cantiere per queste festività natalizie. Ce ne parla l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolotto e poi accanto a me ci sono anche Maurizio Franza, assessore agli eventi, l'assessore all'istruzione Elisabetta Marioni. Allora, vediamo subito, parliamo di programma. Ecco, intanto c'è questa grande collaborazione fra associazioni, di tutto di più quest'anno. Esatto, abbiamo fatto un avviso pubblico, un bando per raccogliere proposte. Queste proposte sono state vagliate da una commissione, è stato accordato un finanziamento proposto dalla commissione, condiviso dalla Giunta e abbiamo la possibilità di offrire più di 100 appuntamenti, di più di 120, da qui fino alla metà del mese di gennaio, più o meno, ecco, che animeranno non solo il centro storico ma anche tutti i quartieri. Sono iniziative proposte da associazioni culturali, dalle proloco della città di Udine, dalle parrocchie della città di Udine. Vedete in copertina quest'immagine che è un quadro di proprietà dei civici musei di Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, una natività. Il programma ha per titolo, abbiamo voluto mettere appunto nella copertina di questo libricino, Natale a Udine, per dare un senso appunto al nostro programma che guarda al Natale, al significato profondo di una festività che è una festività religiosa e la festività che porta Dio tra gli uomini, però consente anche agli uomini di riconoscersi l'un l'altro, di avere il piacere di incontrarsi, di scambiarsi i doni. E noi qui, di momenti per incontrarsi, ne abbiamo tantissimi. Si spazia la musica classica, concerti di organo, concerti di gospel, perché il gospel è un classico del periodo, prosa, anche un giallo natalizio che si è svolto a Udine tanti tanti anni fa, viene ripreso, momenti di intrattenimento nelle sedi della biblioteca del museo etnografico per i bambini e le loro famiglie, per scoprire la tradizione dei Krampus o delle maschere dei Krampus, ma anche della tradizione della nascita. I Krampus arrivano dal Tarvisiano fino a qua? Sicuramente, sì, sì, sono tutti, il giorno 5 per la precisione di dicembre, perché poi arriva San Nicolò il 6. Quindi li avete portati a Udine? Assolutamente, sì. Udine vuol proprio fare Caput Mundi anche per Natale. Sì, diciamo che un po' lo è, non è che adesso voglio fare il falso modesto, perché sinceramente è un programma, come dire, io sono molto soddisfatto della collaborazione, ringrazio tutte le associazioni che hanno voluto aderire, ma anche tutti il personale e gli uffici dei civici musei, del settore di attività culturali, del turismo, dell'istituzione, perché c'è un gioco di squadra che alimenta questa nostra iniziativa. Sentirei velocemente, perché dobbiamo chiudere il collegamento, l'assessore anche agli eventi, Maurizio Franz, in questa veste, assessore al turismo. Ecco, quindi sarà importante per richiamare pure turisti, non solo coinvolgimento degli udinesi, ma anche le persone che vengono da fuori. Sì, è un programma ricchissimo di eventi, questo per il Natale, grazie alla collaborazione con l'assessorato alla cultura e all'istruzione. E poi sarà una città piena di luci, di animazione, grazie alla collaborazione, alla sinergia con la situazione di categorie. Covid permettendo? Covid permettendo. Covid permettendo. Quest'anno, alla 18, quindi accenderemo tutte le luci della città, accenderemo due splendidi abetti di Natale donati dall'amministrazione di Tarvisio e di Pontebba, e poi saranno protagoniste i palazzi della città e le piazze della città, grazie a una coreografia di luci, di colori di animazione, che renderanno senz'altro attraente la capitale del Friuli. E quest'anno poi ritorna anche la pista di patinaggio in piazza Veneglio, che l'anno scorso a causa Covid, e quindi un'ulteriore attrazione per le tante famiglie e i tanti bambini. E poi la Gerdazio Sinfoni Orchestra il 3 di dicembre al Teatro Giovanni D'Audine. Ecco, e proprio Telefriuli ne ha già parlato ampiamente, proprio prima di questo collegamento in diretta. Chiudiamo velocissimamente con Elisabetta Marioni per parlare di laboratori per i bambini. Di Babbo Natale. Dei laboratori di Babbo Natale, un'altra iniziativa per i bambini. I laboratori saranno organizzati sabato 18 e domenica 19, dalle 15 alle 18 sotto la loggia del Lionello. Quindi, Babbo Natale e gli Elfi aspettano i bambini della città di Udine e non solo, anche del territorio, sotto la loggia del Lionello. Bene, ringraziamo l'assessore Elisabetta Marioni, l'assessore Maurizio Franz e l'assessore Fabrizio Cigolotto per questo collegamento e per le riprese, tutte le riprese di questa mattina. Con ringrazio Paolo Bassi. Restituisco la linea allo studio a te, Alexis. E noi ringraziamo te Isabella per questo collegamento in diretta da Udine. Chiudiamo qui a voi la linea, ritorneremo in diretta con l'informazione a partire dalle 16 e 30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.